ciao ciao ragazzi bentornati sul canale del dejo eccoci di nuovo qui con sniper 4 allora allora andiamo a vedere dove eravamo rimasti qui avevamo ammazzato un po di persone ci avevano cercato sono ancora qui alla ricerca in realtà questo è molto vicino questo un pochettino più distante ok dunque andiamo a vedere un attimino la mappa noi siamo qui ma c'è il ripetitore ma possiamo che lasciarlo stare possiamo andare a vedere questa missione qui ottenere informazioni e qui c'è da uccidere l'ufficiale quindi cerchiamo di accelerare un pochettino i tempi e quindi di andare nella parte lì bassa vediamo se riusciamo a raggiungerla ok qua dobbiamo piazzare una carica timer e via scappiamo ok andiamo a prendere le informazioni veloci ok raccolte le informazioni stando a questo documento pare che i nazisti abbiano attirato l'orchidea e ci spostiamo deve averci inviato falsi messaggi devo qui a piazzare un'altra carica eliminare questo via ci rispostiamo una parte bassa vediamo se riusciamo a farci beccare non sarebbe se riusciamo a prendere qualche cosa di usa che l'ho preso tutto quello che serve ok quindi qua mettiamo un'altra carica e distruggiamo il primo cannone via 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 ok un po' di gente allertata c'è anche qualcuno che è lì sotto che non avevo ancora visto quindi qua sotto nella parte bassa c'è qualcuno vediamo di qui anche là c'è un po' di gente proviamo a passare di qua via libera speriamo che non ci veda nessuno qua cos'è c'è nooo un po' di roguetta mettiamo una carica qui timer e via di nuovo scappiamo anche solo qua sotto può andare bene diamo un'occhiata che non ci sia nessuno ok qua sotto c'è qualcuno vediamo infatti ok è eliminato questo è qui vediamo qua ce ne deve essere un altro preso ok e lì ce ne deve essere un altro però qua ci leviamo perché ci hanno avvistato quindi via di corsa cerco intanto di avvicinarmi un pochettino all'obiettivo stavo dando un'occhiata per vedere i movimenti senti ok se me lo piace cercarmi io giro di qua vediamo non vediamo mi sposto qui lì ce n'è uno non so se eliminarlo oppure no probabilmente di qui mi sentono se faccio se sparo però ci trovo vediamo se hanno sentito lo sparo ok forse no ancora potrei rendere il lavoro dell'ispettore un po' più interessante ok lì c'era l'ufficiale 1 allora l'ufficiale è quello lì ok ok vai tiro sbagliato peccato forse c'era la rete ok ok questo elimina anche bene vediamo se riusciamo a eliminare quest'altro qui tanto ce l'abbiamo anche dietro via ok 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 si sta spostando vediamo se riusciamo a beccarlo ok 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 preso quindi obiettivo facoltativo completato comunque l'abbiamo completato anche questo vediamo vediamo la mappa qua ci sarebbero da distruggere i due cannoni e qua trovare delle informazioni direi già che ci siamo andiamo qui a distruggere questi due cannoni e mettiamo la carica ok ci spostiamo sotto ok ok abbiamo fatto saltare anche l'ometto che ci è venuto a cercare ok qui non c'è nessuno vediamo con la carica ci rispostiamo rispostiamo ok ok qui vediamo di eliminare questo uno preso no 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 è scappato ok ok ce n'è uno qui sopra ma vediamo se esce eh allo scoperto c'è anche il ripetitore che probabilmente si può buttare giù attenzione mancato preso ok se questo esce lo becchiamo ok rinforzi in arrivo copertura saltata mi sa che qui siamo messi male ci spostiamo vediamo se riusciamo a far fuori questo eh ok ok preso anche bene attente alla camionetta qua ai rinforzi che arrivano ok eliminato vediamo l'occhiata qui ok ok siamo a 108 metri vediamo se riusciamo ad arrivare lì le informazioni occhio ok 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 questo eliminato che era l'ultimo mi pare in questa zona vediamo se sono stato sentito mi sa si eh mi hanno sentito mi hanno sentito lo sparo mi sposto allora velocemente vediamo eh vediamo di andare quassù in qualche modo in qualche modo dobbiamo salire credo qui sopra 66 metri vediamo se si può passare di qua o se è tutto chiuso niente qua è tutto chiuso ok ok corriamo un po' più ora vediamo se riusciamo a salire da qualche parte qui non mi pare che si possa salire no c'è il filo spinato qua anche niente dobbiamo fare il giro completo ok ok qui però alla zona occhio vediamo di muoverci ok rischiamo di essere beccati un attimo ci beccava in carro armato vediamo se riusciamo da qua ok questo è 70 metri ok preso vediamo se ci beccano sparo sentito porca pipetta niente proviamo a entrare dentro ragazzi vediamo se riusciamo a infiltrarci a toglierci da questa situazione ok qua non mi sembra che ci sia movimento non sento rumori cerchiamo di far meno rumore possibile cerchiamo di far meno rumore possibile allora allora vediamo dobbiamo andare di qua ecco qua c'è qualcuno vediamo vediamo se riusciamo a farci beccare guardiamo i suoi movimenti ma ci sta che ci riusciamo zitti zitti ok ok ufficiale ucciso recuperiamo qualcosia ok e qui raccoliamo i documenti quindi un altro obiettivo stando a questo documento le paure dell'OSS erano i nazisti hanno sicuramente intercettato le nostre comunicazioni ok ci spostiamo da qui quindi e come c'è movimento sento camminare infatti eccolo lì ce n'è uno che che si muove voglio andare a vedere di nuovo la mappa allora allora dobbiamo andare qua neutralizzare la struttura direi di andare direttamente qui quindi puoi trovare Kessler siamo molto vicini vediamo qua cosa abbiamo munizioni shogun purca ok e qui c'è da levarsi di culo perché qui ci hanno ci hanno beccato vediamo qua dentro se troviamo qualcosa di interessante prima che vengano a beccarci questo sarà molto utile qui ci propongono dei cambi fucile ma direi di toglierci da questa situazione ok allora ispezione del nemico direi visto che loro sono tutti lì fuori ecco lì di muoverci vediamo se riusciamo a scappare senza dover ammazzare qualcuno saliamo qui stando attenti ok ok tanto anche qui ragazzi la la registrazione il video sta andando un po' alle lunghe ma in questo almeno abbiamo raggiunto un pochettino di obiettivi qua sistemiamo qua sistemiamo queste le cariche esplosive alla base lo distruggerebbero ma potrei attirare troppa attenzione ok vediamola vediamo qui come siamo messi ok ok qua dobbiamo vedere se c'è del movimento si infatti allora diamo un'occhiata col binocolo in modo da riuscire a segnalare i vari movimenti no io volevo segnalare ok questo questo via ok questo l'abbiamo preso perché ci stava guardando vediamo se è il caso di ammazzare anche questo direi di sì ok e direi anche di far fuori quello lì se ci riusciamo si è spostato maledetto vediamo se riusciamo a beccarlo da qua ce n'è uno che sta facendo il giro vediamo se riusciamo a beccarlo eccolo come ci tira ora occhio qui ok mi fa per fuori questo vai 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 non ricaricare ora ok curiamoci subito al volo ok andiamo di andare a beccare noi quelli sopra ok sembra un po' più tranquilla la situazione devo perquisire un attimino recuperare un po' di munizioni tutto ce n'è uno lì ricarica in fretta per favore ricarica in fretta per favore ricarica in fretta per favore ok giù veloce ok controlliamo anche qui ultima lettera una morte rapida abbiamo preso un altro pezzettino vediamo di andare giù ok sta arrivando qualcun altro non c'è il cambio fucile ok ok preso ho preso anche questo dice il cannone segnato di rosso nella mappetta lo vedete intanto cerco di recuperare più possibile e poi andiamo direttamente a vedere dopo questa serie di uccisioni direi che possiamo salutarci ragazzi la situazione è un pochettino più tranquilla direi di salire un attimino su guardiamo ancora nella mappa siamo in questa parte dobbiamo andare a trovare Kessler però qui c'è 1,2,3 ci sono 3 obiettivi da raggiungere direi il primo è questo qui naturalizzare la struttura facciamo così vedo di finire questa vediamo se ce la facciamo se neutralizzare vuol dire eliminare tutti potrebbe anche essere che vediamo eh ragazzi le dico una cagata però occhio vediamo se riesco a neutralizzare la struttura ok questo è eliminato vediamo se riusciamo ancora quindi a neutralizzare qua la struttura in qualche modo e poi chiudiamo questo video ok riprendiamo allora allora il trasmettitore interpreta i segnali roba complicata sabotandolo manderei in fumo la loro operazione per mesi devo solo agire in silenzio ok quindi eccolo qui interaggiamo e quindi anche questo obiettivo l'abbiamo raggiunto ragazzi ok eliminato niente ragazzi se il video vi è piaciuto mettete un bel like condividetelo se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale io vi aspetto qui come sempre alla prossima ragazzi ciao ciao ciao